Buongiorno a tutti, sono Mattia Salomau, responsabile tecnico in VisionLink. VisionLink è un'azienda che si occupa di distribuzione di componenti per sistemi di visione. Siamo qui all'Italia Machine Vision Forum per presentare delle soluzioni tecnologiche innovative per l'ambito della logistica. Queste soluzioni sono di tipo tridimensionali, quindi sensori che acquisiscono nuvole di punti e quindi ci restituiscono una misura del volume dei nostri oggetti per facilitare eventuali pallet, depalletizzazioni o presa o misure di pallet per la logistica insieme anche a strumenti di intelligenza artificiale che aiutino a identificare i vari oggetti all'interno dei magazzini e-commerce o similari. Questo porta dei vantaggi per i clienti che possono essere l'efficientamento dei processi produttivi, la riduzione degli errori durante il processo di spedizione e anche un miglioramento ambientale per l'efficientamento dei packaging, quindi una riduzione degli sprechi e dei viaggi, magari dei camion, che quindi è un inquinimento minore per l'ambiente.